Dimostrate ogni giorno come far diventare concreti i valori di libertà, eguaglianza e solidarietà scritti nella nostra Costituzione che compie 75 anni, scrive il Capo dello Stato con riconoscenza ai prefetti. E un esempio in queste settimane è l'impegno instancabile di tutte le prefetture per essere vicine in modo operoso e bisogni al dolore delle comunità ferite dall'alluvione dell'Emilia-Romagna, in stretta collaborazione con le regioni e province, sindaci, enti di soccorso e mondo del volontariato. Per Mattarella è il saper far rete tra Stato, autonomie locali e componenti della società civile la chiave per affrontare e superare le sfide e le crisi. In occasione della Festa della Repubblica, la riflessione del Capo dello Stato incoraggia anche ad andare oltre le emergenze, per dare nei territori risposte durevoli ai cittadini. Serve una visione condivisa e un lavoro ben coordinato, anche per utilizzare in modo efficace le risorse disponibili a partire da quelle messe a disposizione dal piano di ripresa. Mattarella infine chiede ai prefetti, che tutelano la sicurezza e la serenità della nostra convivenza, di continuare nella vicinanza alle fasce più fragili della popolazione, nel miglioramento della qualità della vita nei territori, nell'aiuto al disagio sociale dei giovani e degli anziani, mantenendo alta la capacità di mediazione e di dialogo con tutti gli attori pubblici per affrontare i nodi della legalità e del contrasto a ogni forma di sfruttamento nel campo del lavoro.